Viva Maria! Viva Maria! Centinaia e centinaia di persone hanno affollato piazza Giovanni Paolo II a parete nel giorno delle celebrazioni in ottava, dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda. Teleclub Italia ha seguito in diretta la celebrazione ufficiata da Don Antonio Raimondo, la processione e i voli degli angeli diurno e notturno, un'edizione quella che si concluderà oggi con la cerimonia di riposizione di preparazione per il 2025, anno del giubileo e del centenario dell'incoronazione previsto per l'anno 2020 e rinviato causa pandemia. A ricordarlo è stato il parroco della parrocchia San Pietro Apostolo. Un'esortazione ad andare sempre avanti, a crescere, però a crescere in unità per quelle cose che valgono, quelle cose che ci uniscono e non ci dividono, quelle cose per cui vale la pena vivere, perché molto spesso sprechiamo tempo, sprechiamo occasioni per dirci quanto ci dobbiamo voler bene, quanto ci possiamo rispettare. Viva Maria! Viva Maria!